Questo è uno degli episodi più belli che abbia mai visto nella mia vita delle serie tv. Non mi sto mentendo, è vero. Perfetto. Capolavoro. Capolavoro. Perché si prende dei rischi enormi. E devo fare un paragone con R.O.P., Rings of Power. Perché lì si andava a raccontare una storia da poco e diluirla in dieci litri d'acqua, in dieci litri di narrazione. Quello opposto. Perché quello che succede all'inizio di questo primo episodio è fenomenale. Capolavoro. Perché ti spiegano quello che tu vorresti sapere. Lo sceneggiatore legge nella mente dello spettatore. Sapete una cosa? Quando l'arte di scrivere diventa arte e non è solo l'intrattenimento, quando succedono due cose. Quando tu entri completamente nel personaggio che hai di fronte, no? E quando ritieni che quello che sia successo su schermo sia vero. Quindi non c'è uno schermo che ti divide da quella storia. Tu sei dentro lo schermo. Stile video drone. Tu sei là dentro e non lo sai. Stai ordinario. Io alzo le mani. La cosa migliore di questa serie è, oltre al fatto dell'inizio della puntata, ogni puntata di questa serie è migliore dell'altra per me. La 0-1 era bella, la 2 meglio, la terza era fenomenale, questa quarta è capolavoro. Ovviamente si scenderà prima o poi, perché non è che può andare sempre, o forse no, chi lo sa. Fenomenale. Salve, sono Arcane Hammer, benvenuti sul canale. Faccio queste live video sugli episodi di tutte le serie del momento, anche Agatha o La Long, ma tutte le uscite Arca News, dove vi parlo delle news della settimana, che esce proprio oggi, a mezzogiorno anzi è uscito, e video, almeno due video al giorno. Più le uscite al cinema del giovedì e altre cose, quindi iscrivetevi, supportatemi perché porto più conti degli altri, forse anche meglio, questo me lo direte voi nei commenti. Va bene? Allora, incominciamo con questo capolavoro? Io ho ancora la pelle d'oca, è passata un'ora. Io mi sono preso un po' di tempo per riflettere, no? Quando, un po' come con Megalopolis, che dovrò rivedere, l'accensione sul canale intanto, per farci l'analisi sopra, perché mi ha lasciato qualcosa dentro che devo riflettere su queste cose. Lo stesso, è passato un'ora, ma non mi è passato il... la rabbia, il dolore, il nervoso, no, non mi è passato. Che io sono come la nostra Sofia Falcone, sono diventata Sofia Falcone. Spoiler, ovviamente spoiler. Questa è una recensione diversa dalle altre puntate, l'avrete notato non solo per i colori, ma anche per come sono io, perché mi sento così. Ogni tanto guarderò in camera per qualche secondo, perché sono teso. Come vi parlo di questa puntata? Dall'inizio, ma non perché sia all'inizio, ma perché dimostra il coraggio. L'ho detto l'altra volta. Ho detto che sarebbe stato interessante vedere come il pinguino avrebbe fatto fessa Sofia Falcone, perché nella serie si capiva che, essendo che noi dobbiamo tifare ozzo, teoricamente, in una sceneggiatura normale, lui deve arrivare alla fine della serie, come pensavo, che Sofia non lo scoprisse, capite? Così che poi non devi affrontare buchi di sceneggiatura, perché se Sofia scoprisse che Oz l'ha tradita con i maroni, e poi come fai? C'è una scrittura normale, si ferma lì e poi hai altre quattro puntate. E che racconti in quattro puntate? Quindi ho detto, beh, adesso c'è un po' temporeggiare. Ma che temporeggiare? Quarto episodio si apre con il fatto che Sofia scopre che Oz sta con i maroni. Addirittura Oz, e qua è perfettamente coerente, vuole far fessi i maroni dicendo che si era lavorato Sofia per dare a loro la droga. Davante a Sofia. Cioè Oz è talmente giocatore di blef e di scacchi, di poker, che deve improvvisare. E quindi dice, chi è più forte fra Sofia, che sta per essere ammazzata, e loro? Loro. E quindi vuole fare fessi i maroni, però non si fanno fare fessi. E neanche Sofia si fa fare fessi ormai. Poi arriva la fine della puntata precedente, con il ragazzino Vic che, insomma, è Oz che scappa. La genialità sta nel procrastinare e scrivere in media stress. Cosa vuol dire? Non fare come Oliver Twist di Dickens, che mi dice, Oliver Twist nacque il 6 dicembre 1800, a 6 anni fece questo, a 9 anni fece questo. È sempre più interessante partire dal mezzo, un punto di mezzo, per andare avanti e indietro con la narrazione. Flashback e flash forward nel cinema, ma anche nei romanzi si può dire così. Qua che cosa abbiamo? Che alla fine del terzo episodio, abbiamo visto che Vic faceva la domanda a Oz, ma Sofia la lasciamo qua? E Oz ha detto sì. E noi abbiamo pensato per vigliaccheria. No, no, ma che vigliaccheria? Oz vuole far morire lì Sofia che è ferita. Sofia si salva perché chiama quello che poi scopriamo essere uno dei dottori di Arkham. Quindi già il coraggio di mettere alla puntata 4 questo colpo di scena che potevano gestirsi più in là, così da facilitarsi le cose, essere un po' più consueti con le altre serie. Invece no, ce lo giocano subito. Quindi sono costretti nelle prossime puntate a giocare col pesante. E vediamo se regge la scrittura, ma sono sicuro che regge perché questa puntata è perfetta. Tutto perfetto. Sto giochino poi del non dirti tutto ce lo fa anche in questa puntata, sono proprio stronzi. Cioè, nel senso buono, perché tu arriverai poi a sapere tutta la storia di Sofia ad Arkham, ma ti manca il pezzo finale. Capite? Capite? Quindi, cosa succede? Da qui parte un lungo flashback che ci spiega il perché lei è andata ad Arkham. L'avevo detto su Cinefolli a Marzia. Nerd to the bone. Seguitela. Ho detto, guarda, sono bravi, ti spiegano che cosa è successo ad Arkham. E hanno, visto che l'avevo subodorato nella puntata 3, con Vic che, con il flashback, qua è alla Lost. Serie, forse la più bella che abbia mai visto. Più emozionante. Proprio scritta bene. non forse le ultime stagioni, ma come struttura. E qua c'è il flashbackone che ti spiega chi è. Perché giustamente questa serie non solo ti fa emozionare con personaggi in media stress. No? Te li vuole far conoscere davvero. Farti dentare nelle vene. Quindi, Pinguino abbiamo conosciuto. Vic l'abbiamo conosciuto. Lei no. Giustamente. E come c'è finita l'Arkham? Ora, qua voglio dire alla nostra Cristina, che è un nome strano, non me lo ricordo mai. Cristin Migliotti, non Cristin. Cristin Migliotti. Sei meravigliosa. Meravigliosa perché quando tu scrivi in media stress, gli attori devono essere bravissimi. E sapete perché? Perché si deve fare il gioco dell'avanti e dell'indietro. Cioè, noi abbiamo visto la nostra Migliotti fare la pazza. Una pazza comunque, come dire, trattenuta. Si capisce dalla sua interpersona che è tornata da poco a casa da Arkham. Non si sa da quanto, però. Non veniva detto prima. E sta, insomma, capendo che cosa fare. La vogliono mandare via. Lei non ci sta. È arrabbiata. Ma non è pazza completa. Noi pensiamo che sia una donna con i nervi a pezzi e basta, no? E quindi tu non capisci. E hai conosciuto lei e il suo personaggio in un modo. Ma qui vediamo tutta la gamma delle espressioni possibili. Perché qua c'è il passaggio da Sofia Falcone, ragazza normale, male a Joker, perché è Joker questo, uno dei più bei Joker che abbia mai visto. Questo è Joker al femminile. È di una bellezza emotiva, fisica, recitativa, narrativa straordinaria. È una roba senza senso. È roba da cinema. Ma cinema c maiuscola. Questo è Joker. Il più bel Joker che abbia mai visto in versione femminile probabilmente. Se la mangia Harley Quinn, chiunque sia. Perché che cosa ci mostra? Un processo dalla innocenza più completa alla pazzia più completa. Ma non è come si fa nei film che mi fanno cagare, gli orrore, quelli scritti male, dove uno è pazzo perché sì. No, no, no. La pazzia deve essere giustificata. Quindi ti fanno capire che cosa succede? Lo spiego molto velocemente perché non è così lungo, ma vedere 57 minuti di questa roba ero lì incollato con gli occhi lacrini. Oh, fermo, devo andare in bagno. No, aspetto. No, no, perché non voglio perdermi niente. Cosa succede? Che la nostra Sofia ha perso la madre perché si è impiccata. Hangman, vi ricordate? Lei che la chiamavano Hangman? Ve la ricordate? Ok. Si è impiccata la mamma tanto, tanto tempo fa. Va bene? E l'aveva trovata lei. Stile un po' Dexter quando trova... Vabbè, non ve lo dico. Quindi la vede impiccata e lì che trema. E nota già delle cose. Anche perché la serie ci dice nelle puntate precedenti giustamente che lei è molto intelligente. Sa guardare nei punti giusti. È una che non si fa prendere dalle emozioni spesso. diciamo così, no? È molto analitica, sociopatica, no? Quindi vede quel dettaglio. Per esempio la mano del padre quando la abbraccia da bambina quando vede il corpo della madre appesa. Vede quelle dita come se avessero fatto un lavoro manuale e tu capisci che c'è qualcosa che non va. Anche nel flashback poi che vediamo il padre che è il boss Falcone che è morto in The Batman ha qualcosa di strano. Quando vede il corpo della donna appeso ha una reazione un po' vuole difendere la figlia. Ecco il boss il boss Falcone che è un figlio di puttana perché è un grandissimo figlio di puttana crudele che pensa al suo impero e a se stesso ma vuole bene alla figlia. Capite? Le sfumature? Le sfumaturine sono importantissime perché se il nostro boss non avesse detto a Sofia in un che è grandicella diciamo avesse detto a lei guarda forse è meglio che vai tu al potere quando io non ci sarò cosa che poi torna indietro è un boomerang rispetto a tuo fratello che è uno scemo esattamente uno che va al club a mignotte a bere fa le minchiate e poi vediamo quella scena in cui abbraccia la figlia per non farle vedere la madre quindi le vuole bene istintivamente ma è schiavo del potere perché si comprende che l'uccisore delle donne per cui lei sarà accusata è proprio il padre mi sembra palese l'ha fatto con la mamma e poi c'è quel dettaglio che ho adorato alla festa del compleanno del padre quando poi sarà l'ultimo incontro con il padre quando la nostra Sofia ancora giovane e ingenua dice ma io mi ricordo da bambina di quelle mani e se notate la regia dell'ottima devo dire mi ha sorpreso che è diversa da quella precedente ma molto buona lo stesso Ellen Schaver Schaver che hai fatto giusto per capire diversi episodi di Snowpiercer la serie Vikings Orphan Black Person of Inter è stato un po' di robine che non ho visto però sei molto brava regista c'è quel momento in cui si vede negli occhi che il padre vorrebbe strozzarla sul momento perché le sfiora il collo però poi si trattiene che è una caratteristica anche un po' della figlia se vogliamo è genetico perché si fermano entrambi sociopatici e poi hanno un piano più grande come poi vediamo successivamente quindi la vorrebbe strozzare lì ma dice ma io la faccio rinchiudere ad Arkham e le do la colpa dice ma come le dai la colpa visto che non è coinvolta tutti corrotti raga tutti corrotti Gotham torniamo lì Gotham la corruzione quindi uno si dovrebbe chiedere il perché Oz fa quello che fa ma è chiaro tutta la famiglia Falcone segue l'ordine del padre che poi è morto in The Batman quindi la vogliono e la chiedono tutta tutti una pazza e si inventano le cose uccideva gli animali e finisce ad Arkham e c'è lei con questi occhioni gli occhioni che abbiamo conosciuto anche negli altri episodi ma qua sono innocenti innocenti meraviglioso lei con questi occhioni ed è realistico che ad Arkham succeda quello che succeda e il padre comunque non la fa uscire non ci sa manco il processo perché il dottor Vintri Vintra quello che era il capo di Arkham è pagato perché le fanno delle cose senza senso per distruggerle la mente le mandano pure quella specie di sicario che la pazza che è senza catene terrificanti tu vedi da un momento all'altro si va dal villone con l'autista Oz l'autista Oz ci arriviamo fra poco di Oz devo parlare perché è comunque presente in questa puntata attenzione comunque ad Arkham lei piano piano impazzisce ho adorato quella scena in cui a un certo punto strappa dal muro quello che è una tappezzeria ma è una visione un'illusione con quelle medicine che prende che è la carta come si chiama la carta che si attacca al muro adesso non viene il nome della stanza della madre quando era si era impiccata è una roba senza senso bellissimo cioè tu capisci che è una visione ma sei dentro la sua testa perché tu hai vissuto il percorso che ha fatto e lei è straordinaria perché a tutti i passaggi l'innocenza direi ma che cosa mi state facendo boh io non ho fatto niente si rende conto stai in un posto davvero dove non merita di stare viene impicchiata come ho detto sempre su Cinefolli questo è un sanatorio vecchio stile perché Gotham è una città di merda cioè dove si fanno le elettrolisi dove ti fanno le scarichine belle le scarichine no? e anche il modo in cui l'acconciatura l'acconciatura rende lei diversa piano piano cioè questa cosa fantastica anche per i maschietti più è pazza più è sexy avete notato sul finale questo vestito meraviglioso rosa mi pare con la pistola nera il contesto dei colori è fenomenale qua stiamo parlando di altissimo livello comunque lei ad Arkham c'è questo rapporto con il dottorino quello che poi con cui lei parla anche nella seconda puntata dove ha questa visione dell'unico l'unico incontro con il fratello cioè questa cosa pazzesca cioè noi abbiamo pensato nelle puntate precedenti che lei avesse avuto un contatto sempre vivo con il fratello no? ma per il momento per quello che vediamo si è incontrata una volta e il fratello dice io non so che fare per aiutarti cioè lei è stata dieci anni cioè dieci anni là dentro noi abbiamo visto un mese velocizzato dieci anni e quindi da innocente a cui hanno dato del mostro perché lei uccideva queste donne no? lei diventa davvero il mostro queste sono delle cose più terribili e sono d'accordo la società non è che è colpevole per tutti quelli che fanno delle cose brutte ma se uno ha delle tendenze dei problemi delle difficoltà la società non ti aiuta e questo è il peccato e tu diventi un mostro quindi volevano che tu diventassi un mostro lo sei diventato lei diventa un mostro diventa quello che vediamo diventa Joker una meravigliosa Joker cuoricina cioè lei è straordinaria quando esce dal dal colloquio con il fratello avete visto che faccia il realismo e torniamo a Rings of Power il Rings of Power è l'opposto il mondo non esiste non c'è verisomiglianza di niente il Rings of Power mi ricordo la scena di Galadiel che cade nell'ultima puntata con Sauron che cade per dargli gli anelli atterro dopo 200 metri e ha i capelli sistemati non so se mi spiego è un dettaglio ma si capisce tutto lì qui lei è impazzita ed è sporca con i capelli fatti c'è le occhiaie pazza completa e tu dici sì che c'è entrata pazza pure io c'è diventato ma c'è la la frase del fratello che nonostante sia uno che non è che si è impegnato tantissimo perché io a quel punto se avessi voluto bene a mia sorella l'avrei fatta evadere in qualche modo e sarei scappato con lei il fratello dice devi resistere fino all'inizio sei una falcon devi resistere devi resistere keeping hard no tieni duro che deve sopravvivere come Oz deve sopravvivere e qua si deve sopravvivere non si deve vivere a gota e la narrazione è semplice ma è di impatto efficace è potente è prepotente meraviglioso meraviglioso quindi siamo arrivati nella narrazione tu ti aspetti il tutto e quindi vediamo che lei sta là dieci anni è stata sedata ha ucciso cioè noi vediamo che non so quanto tempo sia passato penso poco quando uccide quell'altra che io pensavo fosse una visione ho detto si era immaginato ma in realtà esiste e lei pensa che sia una spia probabilmente del dottore no è diventata anche paranoica la uccide tu dici ah adesso mi mostrano anche io me lo so chiesto ma come fa uscire questo scusami come fa si dice solo una frase giusto per no per non lasciarci troppo indietro ma ce lo speccheranno successivamente il fratello l'ha fatto uscire insieme a quel tale chi si sente in colpa ma è vile pure lui perché è vile è pagato è corrotto allo stesso modo c'è quel discorso bellissimo perché lei venne salvata da lui perché perché lei quando è stata quasi uccisa nello scontro con Od e i maroni che è successo ha chiamato questo tale che abbiamo visto già lei dice io come faccio adesso sono senza armi senza un esercito senza aiuti come farò e questo sembra aiutarla no perché dice no deve farti forza magari dovresti partire un nuovo inizio e lei che è dieci anni che subisce qua non c'entra il femminismo ragazzi è una cosa bellissima perché è cioè non è nazi femminista è femminista cioè lei è stata scartata per tutta la vita per il suo essere donna e qui dice ma voi mi avete usato per dieci anni per i vostri porci comodi tu sei un bile mi stai aiutando per il senso di colpa non perché la cosa giusta che pensi fuori perché mi vuoi scopare essenzialmente quasi il limone dici ora qua si cade nel limone no no prima di andare sul finale faccio un po' come la puntata parliamo di Oz Oz è sempre stato quello che è stato e quando ci ricordiamo il dialogo della della seconda puntata l'ultima no la terza puntata la scorsa forse era quello sì 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 Oz piange spiegando a a Sofia perché la vuole aiutare dicendo io voglio il mio club io valgo di più e lei si era commossa nel senso che aveva visto in lui lo stesso dolore che aveva ricevuto lei in un certo senso qual senso ecco lì abbiamo quello scatto perché noi vediamo fisicamente nel flashback Oz come è stato raccontato dall'Od del futuro del presente o meglio ed è un Oz patetico fa davvero schifo è un freak è uno schiavo e ci ricordiamo nel terzo episodio sempre quando Viti lo insulta no quando sta a letto con la moglie del boss Viti arrivano Sofia e e Oz e quello fa sì vabbè potrei fare tutto quello che vi pare ma tanto Oz tu sei inutile ecco e lui scatta con la pistola in bocca no ecco qua lo vediamo bello quindi show don't tell but sometimes must show it ma qualche volta farlo vedere perché dà quel qualcosa in più mi ha fatto conoscere il personaggio un po' come questo flashback ha parole emotivamente nei dialoghi e me lo fa vedere una volta basta se l'hai narrato bene sarà super potente questa cosa ah io lo so che nessuno vaderà fino alla fine questo video lo so già nel caso scrivete hashtag Sofia Joker nei commenti tanto io lo faccio per me questo video tanto lo so che dopo tre minuti vi sei rotto il cazzo e mi dà anche fastidio posso dirlo però allora dicevo Oz è patetico mediocre e quindi quello che fa tutto quello che fa prende ancora più di valore nel presente diciamo perché lui era quello che ascolta che è corrotto che consegna fra virgoletti il seghetto di Sofia cioè il fatto che lei stava parlando con la poliziotta al boss perché è stato pagato per quello quindi Oz è sempre stata quella roba lì adesso si sta riscattando apprezzabile e andiamo alla fine 26 minuti quando lei entra alla cena avevo già capito tutto non avevo capito alcune però avevo capito tutto lei bellissima con questo vestito super sexy è tutta diciamo con gli occhi che non so si è messa il mascara Joker si sta truccando palesemente c'è una pazza e fa di tutto come spostare la sedia rumorosamente bellissimo quello è un dettaglio davvero top oppure c'è quel discorso con Biti che mi passi non so che cosa fosse il parmigiano il formaggio quello che era mentre lei mangia e c'è il discorso di Luca Luca Falcone lo zio e lei fa il suo discorso e là ho capito le ammazza tutti quando ho visto che la bambina si è alzata ho detto almeno la bambina la salva che è innocente visto che poi c'era una scena nel secondo episodio se vi ricordate dove la nostra Sofia aveva simpatia per sta bambina ovviamente però perché no è pazza vendicativa ma non scema cioè non è Broly che boh spacco tutto Hulk spacco tutto quindi se muore anche se mi sarebbe piaciuto che la bambina morisse per sbaglio magari perché lei diceva si dormi qua ma lei si si fosse alzata magari e ci finiva perché anche questo che sei un pazzo però col gas diciamo che te la risolvi facilmente ok già funziona in realtà funziona quindi lei fa il discorso e fa da domani avrò un nuovo inizio non faccio più parte di questa famiglia sì ho capito gli ammazzi tutti pensavo col coltello cosa sarebbe stato più bello il gas molto strano bizzarro mi ricordo un film con Veronica Lake molto bello un film che sì la sceneggiatura ci prova un po' a fregarmi ma avevo capito perché si trascina via la bambina che senza la mamma chissà perché e va in sto posto che una serra si parla di Alberto dice guarda io venivo qua con Alberto ci dormivamo era una giungla anche questo è un dettaglio da poco ma che ti dà l'idea del vissuto vedete basta poco e che succede dormono lì quindi questo momento anche di tenerezza che la bambina fa eh ma tu sei cattiva mi hanno detto fai cose cattive e lei dice questa cosa bellissima vera ma sì è vero mio padre mi ha messo in un dungeon ad affrontare dei mostri perché lei sta parlando con una bambina che quello conosce e ho dovuto fare delle cose brutte e fa la bambina ma quindi anch'io vado nel dungeon no 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 tu non ci vai è tenerissimo tenerissimo è una roba quando vi dico che la bella scrittura è semplice è scegliere quello da dire nel modo giusto non serve fare dieci scene che devi fare montaggio alternato parallelo con lo so otto mila personaggi film corali no dire la cosa giusta al momento giusto un minuto è risolto tac scrittura sintetica c'è bisogno di fare le minchiate simboliche simbolo del simbolo del simbolo visione al contrario riflessa nello specchio perché in realtà se giri il film al contrario in scena 1 è così perché no che tenerezza quella scena ragazzi che brividi brividi lei torna in casa pensa che sono tutti sgozzati col sangue invece no c'è il gas ma colpo di scena e questo mi piace perché ovviamente lei prenderà l'ossesso dell'impero ovviamente e si vendica di Oz che in qualche modo dovrà avere un suo impero suppongo se no davvero muore qua ma non mi stupirei se Oz morisse in questa serie o non lo so è stato già detto che tornerà in The Batman 2 quindi non morirà suppongo però non mi stupirei del contrario lei va da viti ha lasciato la finestra aperta dettaglio fondamentale perché lei si toglie la maschera solo in quella stanza quindi logica rigorosa vedete cura del dettaglio cura del dettaglio non ci facciamo sfuggire niente lei si toglie la maschera solo in quella stanza perché lo sa perché ha aperto la finestra se no muore come una scema che non è vabbè però ha rischiato no non ha rischiato niente lei lei è bellissima con questa pistola minaccia viti e si farà dare suppongo le chiavi dell'imperio in qualche modo codice della banca e da lì si prenderà un esercito e non lo so che era i suoi agganci e farà cosa ora io a differenza delle altre puntate qua non so dire che cosa succederà posso imbastire una teoria ma mi hanno stupito qua palesemente avrà il controllo dell'impero e si preparerà la guerra cercherà Oz per le strade con i suoi sicari magari con i sicari che ha avuto pagandoli eccetera però Oz non so come farà per avere il suo impero perché non ha alle spalle una famiglia come farà questo non lo so e per una volta nella mia vita altre volte mi è successo ma nella serialità raramente mi è capitato di dire io non so come ando avanti sta storia ma mi fido completamente di voi andate fate voglio arrivare qua martedì mattina io lo guardo martedì mattina e dire non so cosa succederà voglio rimanere qua incollato sul mio divano con gli occhi spalancati e non perdermi niente di quello che si dice pure il sospiro della nostra Christine meravigliosa Christine fa delle facce raga ho letto su quel volto il dolore un dolore lancinante lacerante meraviglioso bello bello così io voglio vivere l'arte 33 minuti ma che che finisce qua se qualcuno è arrivato qua hashtag sofia sei bellissima ciao raga cavolavoro così si scrive non la merda che guardiamo nel 98% dei casi ciao